Proseguono gli incontri al Meeting per l'amicizia dei popoli a Rimini, ieri l'attesa partecipazione del segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Nunzio Galantino, che ha parlato della necessità che anche la Chiesa rinnovi le sue strutture. La diffusione del cristianesimo è l'evento che ha più rivoluzionato la storia del mondo. Credere in un Dio che soffre fino alla morte, che è il punto drammaticamente più alto del limite, e credere in un Dio che vince il male, assumendo la debolezza altrui, introduce una visione che stravolge per sempre le categorie attraverso le quali si pensa il divino. Il comandamento dell'amore porta a intendere gli ultimi non più come scarti, ma come persone da sollevare e delle quali condividere la sorte. Lo ha detto il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Nunzio Galantino, che è intervenuto alla seconda giornata del meeting di Rimini con una relazione sul tema «Persona e senso del limite». Per Monsignor Galantino il limite è nell'uomo un fattore propulsivo, in quanto genera il desiderio che è il motore della volontà. Se l'uomo possedesse tutto, non cercherebbe nulla. Se al contrario si scopre mancante, è mosso alla ricerca di ciò che non ha. Per questo motivo, ha affermato, l'assunzione del limite è un'occasione di rinnovamento individuale, ecclesiale e sociale. Anche la Chiesa è sollecitata a rinnovarsi nelle sue strutture, nelle dinamiche decisionali e nelle prassi concrete delle comunità, ha aggiunto Monsignor Galantino, per il quale le comunità ecclesiali e le associazioni già sono, per il nostro tempo, un mirabile segno della presenza di Dio e della carità che da Lui promana. Tuttavia, ha riconosciuto il segretario della CEI, ancora tanto dobbiamo fare nella via della testimonianza. Una Chiesa che fa del limite una risorsa, assume lo stile missionario tanto invocato da Papa Francesco, divenendo sempre meno dispensatrice di servizi e sempre più ospedale da campo, chinata sugli ultimi, nei quali è racchiusa la più grande ricchezza, nei quali è presente lo stesso Signore, dai quali spera di essere accolta nel regno di Dio.